La politica napoletana si infervora in vista delle prossime elezioni, in particolare per il sindaco di Napoli. Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza, Roberto Fico, esclude qualunque accordo o patto di desistenza con De Magistris alle comunali della città e conferma la presenza di un candidato sindaco di una lista di Movimento 5 Stelle che potrebbero essere definiti a breve. Fico è intervenuto al Meetup Napoli, nella sede della Municipalità del Vomero, davanti a circa 150 tra attivisti e simpatizzanti, tra i quali l'attore Patrizio Rispo. Quanto alla lista del Movimento 5 Stelle al Comune, Fico ha confermato la sua presenza, ma la domanda di un giornalista che gli ha chiesto se i timori di una possibile non partecipazione siano definitivamente fugati è replicato, ma in niente è definitivamente fugato. Ascoltiamo il presidente della Commissione di Vigilanza RAI ai nostri microfoni. Siamo nel pieno del percorso per le elezioni comunali a Napoli, sfido qualsiasi partito a riunirsi a porte aperte con la stampa come facciamo noi e parlare guardandoci negli occhi per creare una cultura diversa in questa città che poi sia la cultura che regna all'interno del Comune di Napoli. Io penso e credo molto fortemente che Napoli è pronta al Movimento 5 Stelle e quindi ne vedremo delle belle.